E poi come le fai? Che non è che ti metti a fare l'infotografo del prato E' una documentazione di una situazione No? No, c'ho questa Mi sono scaricata sul telefono Un'applicazione che ha tutte le foto C'ha tutte le macchinette Polaroid Quali i modelli Solo che ho scoperto Che in pratica A me è gratuito questo Non ti permette di salutarne Quindi appena le faccio Le devo mandarmeli per posta O scaricarle Perché se no mi perde Ho perso una che avevo fatto a stamiglia Un giorno al posto è bellissima E' una scena 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.